La manovra presentata dal nuovo Presidente del Consiglio Mario Monti chiede ulteriori sacrifici a tutti e prevede anche dei tagli alla spesa pubblica. Tra queste l'abolizione delle giunte provinciali e la riduzione dei consigli provinciali. Come commenta queste misure? È una manovra importante che aveva come obiettivo quello di mettere insieme rigore ed equità sociale. Su questo qualche perplessità purtroppo anche io ce l'ho perché vedo che sono stati colpiti molto i nostri pensionati con pensioni molto basse e soprattutto i lavoratori dipendenti. Però è chiaro che è una manovra che sta portando a molti distingue, sta portando a molti malumori e quindi vuol dire che è una manovra che ha toccato molti e quindi questo è anche positivo. Per quanto riguarda i costi della politica Italia è stato fatto poco, nel senso che sicuramente sono stati tolti alcuni costi della politica intendendoli come costi riferiti alla provincia e questo va bene, non sono qui a difendere questo ente perché ho sempre detto che la cosa importante è definire le funzioni delle competenze e su questo costruire poi il nuovo assetto, la nuova struttura del nostro Stato. Quello che mi dispiace è che in questa manovra, e questo ce l'aspettavamo tutti, non si parla delle tante promesse, ovvero il dimezzamento dei parlamentari, il dimezzamento dei consiglieri regionali, l'abolizione dei loro vitalizi, dei loro rimborsi, dei loro benefit. Questo non si è toccato, si dice che forse lo si toccherà, però si poteva partire da lì perché quando si chiede sacrifici a tutti, soprattutto i soliti noti, è giusto partire da chi invece non ha mai lasciato neanche un'unghia rispetto a tutto il resto. Secondo me l'unico vero grande errore del capitolo che riguarda l'Italia e i costi della politica è questo, si è partiti dalle province va benissimo, quello non è un problema, però è mancata tutta la vera parte, come si dice noi in Romagna, la ciccia è rimasta ancora tutta lì perché i veri costi della politica sono quelli, non si può neanche pensare che si dice togliamo i vitalizi a partire dal 2018, a partire dal 2013, invece non si è fatto né a partire dal 2018, né a partire dal 2013, ma neanche a partire dal 2012. Questo mi ha lasciato un po' rammaricato perché pensare che, ripeto, i costi siano solamente l'abolizione di un ente mi sembra che sia un po' riduttivo, poi quello ci sta ma non è quello il problema.